Sono ormai lontani i tempi dei gilleggialli in sommossa da Parigi a Ragusa e precisamente in Viale Europa, davanti la sede centrale della Banca Agricola Popolare. Adesso si lavora di ascolto, incontri programmatici e concertazione. Ieri uno di questi momenti all'interno della sala convegni dell'ex provincia di Ragusa. Presenti il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Alessio Villarosa, la Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, Maria Lucia Lorefice, il deputato Lars Stefania Campo e i risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Si tratta di un incontro programmatico dal quale sono emersi temi importanti da mettere come ordine del giorno al prossimo tavolo che si terrà a Roma, tavolo al quale sarà invitato anche il Consob, ente che tutela gli investitori e i vertici della Banca Italia. Ma come accennato ieri pomeriggio, è stata occasione per affrontare punti importanti che spaziano dalla possibilità di ampliare il Fondo Solidarietà per andare incontro alle esigenze dei risparmiatori, alle nuove proposte normative in materia di banche popolari, dalle valutazioni di varie casistiche al tema del riacquisto delle azioni da parte della Banca Agricola, tutte istanze che il sottosegretario Villarosa ha annunciato di portare al tavolo romano. Con questo tavolo tecnico in un anno siamo riusciti a portare avanti molte soluzioni, non risolutive al 100%, però dei passi avanti e oggi, siccome ci sono stati dei cambi anche dentro Banca d'Italia, per organizzare il prossimo tavolo tecnico che deve essere definitivo, abbiamo tirato fuori quali devono essere i temi da portare a Roma ed è stato utilissimo perché sono venuti fuori dei temi ai quali non avevamo pensato. Dei passi avanti sono stati fatti, così come hanno anche confermato alcuni dei rappresentanti dei risparmiatori nei loro interventi. Presente infatti anche Salvatore Rando, portabandiera nelle passate proteste e fondatore del Comitato degli Azionisti. Proprio Rando ha sottolineato, come si sia passati nei mesi, da protesti di rabbia a proposte concrete. Qualche risultato è stato ottenuto, ma la speranza è che molto altro si possa fare ancora in tempi celeri. Per il parlamentare a Lars, Stefania Campo, si sono costruite con pazienza le condizioni affinché i tanti cittadini che hanno riposto le proprie economie nelle mani dell'Istituto di Risparmio Popolare, possano essere e sentirsi garantiti e tutelati. Un momento di confronto costruttivo spiega invece la Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, Maria Lucia Lorefice. In questo tavolo abbiamo nuovamente fatto il punto, ascoltato le difficoltà ulteriori che i risparmiatori hanno segnalato e quindi l'impegno a questo punto è quello di rivedersi, speriamo già settimana prossima, comunque tra qualche giorno a Roma, invitando al tavolo, oltre che Banca d'Italia, anche la Consob, che ha un ruolo determinante in questa vicenda, sperando che anche dall'interlocuzione con Consob possano venire fuori delle importanti soluzioni a sostegno dei tantissimi risparmiatori, non solo ragusani ma siciliani. Grazie a tutti.